Vladimir Luxuria Vladimir Luxuria, su Instagram la foto dell'aggressione a 20 anni Oggi ho deciso di mostrarvi una foto di quando avevo 20 anni, subito dopo le botte che presi da un gruppo di ragazzi in metropolitana mentre mi urlavano insulti. Vladimir Luxuria mette a nudo su Instagram una parte molto privata della sua vita raccontando un episodio che l'ha vista protagonista diversi anni fa. Quando presa di mira da alcuni balordi fu vittima di violenza riconducibile non solo bullismo ma anche omofobia. Una foto leggermente sbiadita dal tempo, capelli ricci alle spalle, un filo di barba a incornicciare. Il viso di quando era semplicemente Vladimiro guadagno e l'occhio tumefatto, simbolo tangibile dei soprusi. Il dolore di Vladimir Luxuria. Una violenza non solo fisica per l'ex parlamentare di rifondazione comunista, ma anche psicologica, come spiega lei stessa sul social. Mi fecero male i cazzotti e anche l'indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla. Non mi vergogno di mostrarvi la barba e i lividi che avevo allora e li ho superati entrambi ei. La confessione di Vladimir Luxuria a mattino 5. Vladimir aveva già parlato di questo episodio a mattino 5 nella puntata in onda il 2 maggio. In quell'occasione, commentando l'aggressione verbale di Bai e Dame ai danni di Aida al GF 15, Luxuria aveva spiegato. Mi hanno fatto molto male le botte che mi hanno dato questi ragazzi. Ma soprattutto mi faceva male vedere tutte quelle persone che stavano sedute e guardavano solo la prossima fermata qualera. Io però non ho mai pensato di trasformare questo odio che ho subito facendomi infettare da questo odio. Non ho mai voluto restituire questo odio. Non ho mai voluto restituire questo odio. Grazie a tutti.